Che bella vittoria oggi con le Dete Bulldog Quindi il capitano, 4 gol, poker, ma anche l'albanese oggi assist da tutte le parti Poi anche il momento di gol per sfoto che ha fatto solamente un gol Minniti per non parlare, oggi ha parlato veramente di tutto Non ci sono riusciti a segnare Ma l'assenza di Moulet oggi è toccata Perché questo turno Cosa? I miei 3 gol Ma Moulet, Moulet Moulet voleva dire qualcosa di più Sentiamo Noi siamo signori, non parliamo Ci vediamo quando sarà Siamo signori ragazzi Ripeto, una vittoria perfetta, perfetti in ogni ruolo Oggi nessun punto debole l'avete fatto vedere Eh sì, non c'era I meccanismi ci sono consolidati Non giocando Moulet non abbiamo avuto interpunti terzi Questa è cattiva Fa lost questo ragazzo Stava dicendo il capitano qualcosa? No, sto dicendo che ormai i meccanismi si stanno consolidando Quindi la squadra ormai gira bene La squadra vola Voi aspettate L'ottava giornata è lo Sparti Up Vediamo come va Eh aspettate a tutti i costi questi accipicchia Mi ha detto che oggi i barbola ti daranno la pelle Con il cipicchia Gli abbiamo affetto Chissà Gli abbiamo affetto Voi i vostri punti li avete fatti E che punti? Quanti punti? Beh, levando la munizione Quindi diciamo Basta per il ragazzo E infatti Poi alla fine Dato che lui è un difensore È stato bravissimo comunque A cercare A difendere la porta di Minniti Anche se Senza nulla togliere la difesa Ma oggi Minniti era impossibile Supererlo E poi ci giocate contro E poi ci giochiamo contro E quindi Comunque non li temete questi parma No Non teniamo nessuno noi Giochiamo anche in partita A visato Da loro ti mette qualcuno In particolar modo Sicuramente loro vi temeranno Ho visto Ambrosio Lui è diciamo Uno dei punti forti Della scuola Dunque ci sarà Mulè Il ritorno di Mulè A controllarlo Potrebbe anche Rientrano sto punto Speriamo che la febbre dure Speriamo che Danny Continua a prendere pali Deve guarire bene Va bene Va bene Ragazzi Complimenti Ci vediamo alla prossima Ok Ciao Ciao Volete fare un saluto Mi sembra Salutiamo i fantasmi Ciao fantasmi È un momento a Milano Che è triste Quindi è un maggior ragione Ciao 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 Ciao